buona, sono le R4 pensavo che c'è avevo paura di avere il G3 invece il C mi sei andato un po' troppo la visuale di mira sensibilità quando stai mirata troppo, subito, ricordo troppo quanto hai messo, scusa 70, è troppo mi ha detto anche a 40 a me stava già impostata a 50 a 50 a 20 20 è troppo duro no, 20 va bene c'è qualcuno, Dania? hai visto? che sbendadronno io mi trovo meglio con la 50 no, mi spiace troppo basso Dania, senta me, molto cautamente possiamo entrare non qui ok io ti copro le spalle dovrebbe esserci un pezzo di merda nel corrido oddio ho visto no, vabbè, regà ho messo in ferimento eh, appunto Cristian, aspetta chi ha ucciso? mi ha ucciso Vigil che è reanimato io mi sa che ho messo in ferimento Smoke sta sulle scale però non rischiare non lo so ui no, no, non ci sta no, l'anno, l'anno sta con la Smoke vabbè, ciao, buona mi basta stare sui suoi timide, va? forza oddio che cazzo è uscito vabbè, oh, però mamma mia no, 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 dovevo prenderla io e che ne so ne ho capito Paolo, lo sai che lì morirai? dietro a noi Cristian, dal camino eh, eh, sì si è stato individuato da che? già sto guardando guardami tu, Danny sto guardando la finestrella eh, ma tu non esporti al camino è entrato, è entrato, è entrato tanto piacere eh, ho capito giocati sui due tracce e giocati, sicuro perché sono andati in camina ho colpito tante volte sono morto io come buona qui che è ucciso eh, bandit bandit eh, scusa, blitz no, no, regà, no no, Danny eh, ho capito stavano ammazzando da sopra vabbè, rimani qua faccio il giro eh, qua c'è sto mongoloide ahhh sì, Cristian, buonissimo almeno se noi in quattro dobbiamo giocare se non siamo noi ah, in quattro è bene pensavo madonna c'è la pancia qua no, vabbè, regà non ci posso credere da un buco mi ha distrutto questo da un buco piccolissimo sto Hanton 2003 che pose di culo mamma mia mi ha fatto a pigliarmi in testa po', per fare bitch no, no, no no, no sto venendo in guida tirato vedi un po se stanno ci sono guarda può piazzare amici come si chiama con un amico ma così se ne va bravo buona la distrazione qui romperò la ui mamma ti distruggono allora lo segui che macchina che non c'è nessuno però la porta è chiusa pubblici di conto sto schifoso operatore è baggato 4 di vita paolo mi devi curare no ma io non ho parole sto gioco mongoloide punzecchiano ma ne ho più beh vabbè non fa niente ma donna sto qua c'è riflessi rallentati però è ecco bravo dai e uno dai allora dovrebbe stare in macelleria ma non ne sono sicuro sì sì dietro sto infame ho detto non ne sono sicuro sì sì John no su culo giovani ho problemi a distruggere il twitch è un macelleria no tutta aperta la macelleria ci penso io ci guardo io ah regà è buonoso ah bella guarda ti guarda ti pareva oh aiuto 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 vabbè ma quanto lagga sto drone ah muori beh io entro danni attendo che stanno a twitch e tutti i compagni suoi vieni se si buona però no vabbè regà però entro in 2003 non muore e dai stai fuori dalla macelleria paolo merdi vai se gioca classificata o libera classificata no perchè se la libera quasi così no no hanno rischiato l'hanno rischiato vabbè allora ci vengo che cazzo fai ciao 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 ma paolo perchè te la vuoi rischiare tanto deve entrare ce l'hai una mina l'ho già messo aspetta appena senti contesa ti alzi che sia stata la dietro si lo so no 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 frega te ne lascia perdere va va alzati 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 post nice con l'infame di anton 2003 sgrove bastardola la distruggo la porta paolo mi vuoi coprire da quella porta la porta aspetta no qui sta prendendo tutti i bandits Sì ma questo termine che sta qua Mi bisogno di giocare a Rainbow Mi faccio una libera Ma come parlavi? Mi sembra che tu Rainbow non lo volessi più vedere No 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 Non è che non lo volevo più vedere, non avevo voglia di giocare Da quando ho smesso il Jera Weekend Lì che tipo 2-3 mesi fa Ma che sta facendo? Cioè qui ho voglia di giocare Cioè tipo a me Rainbow era un periodo Non riuscivo a mandarlo giù Vabbè meglio che si facesse Non hai voglia Rainbow veramente No ma perché tipo anche se Anche su YouTube Che sta facendo? L'estate per tutto Madonna distrutta Dai vieni Mi scappa Mi do i primi 5 minuti poi vado avanti La visualizzazione No sta Vigil Ma perché non viene ad aprire questo? Polo sta Vigil Ferito Vigil sulle scale qua Cazzo sta succedendo? Mi si è bloccato No vabbè No vabbè ragazzi si è bloccato il drone Ho trovato il drone Ho ferito qualcuno dentro C'è la wallax ho trovato Ho ferito anche qualcuno dentro Sti cazzo Sti cazzo Sti cazzo Guarda Polo guarda il drone come si è ficcato Ho visto ho visto Non muore doc Ah meno male Bellissima partita 75.000 golpi per uccidere doc Bellissima partita Bellissima partita Bello stansone Grazie per la visione!